Stavo registrando un altro video oggi però a un certo punto mi è venuto questo flash, questa cosa qui dallo stomaco, lo l'ho detto assolutamente, forse oggi è il caso di parlare un po' Bitcoin è qui per restare. Stavo facendo una serie di riflessioni su tutto quello che sta accadendo in questo momento, un po' complesso dei mercati delle criptovalute però anche con delle micro mollichine di pane che sta lasciando, quindi dei segni che sta lasciando questo mercato che sfuggono, sfuggono nell'insieme di queste barahonde, di queste notizie che sono estremamente negative in alcuni momenti ma anche confuse l'un l'altro e poi si perdono queste mollichine di pane che è un po' il tragitto, la guida, la strada, il trend delle cose reali, non solo dei grafici che effettivamente il mercato cripto ma Bitcoin anche sta disegnando, Bitcoin è qui per restare, resilienza, resilienza di Bitcoin perché ragazzi sta affrontando veramente una serie di sfide, una serie di sfide che pochi anni fa erano impensabili, delle cose che noi quando ne parlavamo sembravano dei futuri, no? futuri distopici, futuri in cui la regolamentazione sarebbe arrivata ma in realtà non ci credevamo neanche noi magari di vedere una cosa del genere o comunque sapevamo che sarebbe arrivata ma poi che, insomma, si importava della cosa, stile Titanic, i violini continuavano a suonare, tanto c'era spazio, no? per andare avanti, però a un certo punto poi queste cose sono arrivate, sono arrivate come sempre ragazzi, quando arriva tutto quello che si aspetta magari da anni precedenti, da mesi precedenti, arriva in maniera silenziosa, non si sente, poi come il gas che diciamo ci addormenta magari, oppure è peggio ancora, magari non lo sentiamo arrivare. E queste regolamentazioni sono arrivate, è arrivato l'occhio del ciclone all'interno del mercato delle criptovalute, è arrivata un occhio di bue per gli amanti dello show, dello spettacolo, della musica, che sta illuminando questo mercato. Lo sta illuminando dall'alto, sta illuminando Bitcoin, sta illuminando le stablecoin, sta illuminando quelle che è la DeFi, sta illuminando tutti quelli che erano i concetti dietro al mercato delle cripto, i CX, quindi gli exchange e le istituzioni, che erano diventati quasi pilastri un po' per gli amanti del settore, pilastri che non sono perché cadono come birilli, FTX cade come birilli. Quindi questa mattina Binance tira fuori che il deposito di dollari non sarà più permesso, il prelievo di dollari non sarà più permesso. Ok, le stablecoin ragazzi, ma capite bene l'importanza di una cosa del genere, è tirare in imbarca, ridimensionare tutto quello che era un operato, quindi quella spruffonaggine forse, no? Anche da un certo punto di vista eccessiva, che ha toccato molti degli operatori istituzionali delle criptovaluti, dimenticandosi il microscopico punto in cui sono nel sistema finanziario mondiale, al di là della potenza economica che è in dubbio, no? Quindi da un punto di vista economico è in dubbio, però Bitcoin è qui per restare ragazzi. Allora a me è venuto in mente di fare questo video con una serie di ragionamenti da fare insieme ragazzi e che un po' mi frullavano in testa. Partiamo quindi anche dai primi punti. Prima però, prima però, mi tocca ovviamente dirvi questo ragazzi. Allora, l'Academy Trading On che è aperta, è aperta solo fino all'11, anzi a dire la verità, per una questione tecnica, cioè assenza in pratica del team informatico, probabilmente si chiuderà il 12, quindi lunedì e non l'11, ma di questo vi do comunicazione sul mio canale Telegram, eccetera, in ogni caso è solo un giorno in più. E' stato un grande afflusso, c'è stato un grande afflusso, un po' di più di quello che mi aspettavo in una situazione attuale del genere, questo significa che c'è anche tanta voglia di imparare, anche questo è molto significativo proprio di questo mercato, è un mercato che attrae ragazzi e chi l'ha provato difficilmente torna indietro. In ogni caso, Trading On Academy apre ragazzi con una super promo anche da 50 euro di sconto sul rinnovo trimestrale per sempre, fino a quando la membership rimane attiva, su questa pagina che vi lascio in descrizione trovate tutte le informazioni, ovviamente i coupon sono finiti, questo ve lo dico in maniera chiara, li ho aggiunti io personalmente di nuovi, quindi ce ne sono altri, ma in realtà i coupon sono finiti ragazzi, come sapete non mi piacciono questi tipi di promo, però ovviamente poi il team marketing fa il suo e sono certamente più bravi di me in queste cose, perciò io poi impongo magari un po' la mia volontà da persona outliers, un po' fuori dai, dare le righe comunque, è così. Allora ragazzi, se volete partecipare qui trovate anche il video dove spiego tutto quello che facciamo, i sistemi di trading automatizzati, tutte le cose che facciamo, come ambientarsi, il nuovo percorso che abbiamo creato, anche le strutture che stanno creando sulla questione dell'analisi dei progetti dei file, eccetera, trovate tutto nell'info, non fatevi scappare, questa occasione erano due anni e mezzo, che non aprivamo l'academy, link in descrizione. Passiamo alla questione resilienza. Allora ragazzi, io mi sono fatto anche un appunto di una lista di tutto quello che Bitcoin sta affrontando in questo momento, come tra le altre cose da sogno, mi è venuto così un flash, ho preso la penna, non ti è stato a scrivere sui fogli scarabocchiando cose assurde, perché poi io scarabocchio con una penna rossa, tra le altre cose, perché cancellabili, quelle che si usavano alle scuole, vabbè. Allora, la prima questione che mi è venuta in mente è la questione della resilienza. Nonostante un macello colossale di quello che è avvenuto nel 2022, ma non è solo il 2022, anche il 2023, Bitcoin sembra essere qui per restare. A novembre inizia il nuovo ciclo annuale, inizia il nuovo ciclo del loving, quasi sicuramente, e che cosa fa? Fa più 100%, in pratica si porta ad essere l'asset nel 2023, più o meno di quelli generalisti, come gli indici, eccetera, migliore di tutti di nuovo, ma dopo il 2022 un crash enorme, eccetera, ritorna lì. Ma nonostante il fallimento di un player importantissimo, FTX, ragazzi, non era solo un exchange, era un market maker, portava liquidità, la liquidità è scomparsa dai mercati delle criptovalute, e questo è un disastro per la questione degli equilibri di mercato, sono cose tecniche che riguardano proprio i mercati, quindi quando ragionate sulla volatilità dovete capire che la volatilità è l'effetto della mancanza di liquidità, meno liquidità, più volatilità, più speculazioni, più manipolazioni, più scam, quindi la liquidità invece compensa, fix this, no? Compensa questi problemi, è fondamentale. Quindi resilienza di Bitcoin, c'è, è rimasto 26.700 dollari, resta lì, certo un po' lontano dai massimi, ma forse erano in bolla quei massimi dello scorso anno, dovuto alla questione legata ai tassi di interesse e alle emissioni di liquidità, ma poi nel 2022 Bitcoin che cosa fa? Per la prima volta nella sua vita affronta il più grande rialzo dei tassi di interesse della storia degli ultimi vent'anni, in un lasso di tempo estremamente breve, affronta una guerra, una guerra europea che non accadeva da anni e anni e anni, affronta una crisi legata all'inflazione come uno shock del 1970, quelli petroliferi, quando, insomma, veramente, sembra storia, no? Da leggere nei libri, quella roba lì dei giornalisti, eppure lo affronta in silenzio, zitto, perché queste cose arrivano sempre così, in silenzio, zitto, cioè non c'è qualcuno che vi bussa, non c'è il trombone che urla sta arrivando, nessuno lo dice come tutte le cose, la bufera quando arriva, arriva, non dà stenni di nulla, ragazzi, non suona il campanello, il citofono, nulla, arriva questa fase, Bitcoin l'affronta in silenzio, zitto, sta lì, ha subito, ovviamente, ragazzi, però è resiliente, io vi ricordo che nell'ultima fase della chiusura del ciclo dell'harding, Bitcoin era a 3.000 dollari, ragazzi, 3.000 e qualcosa, 3.000 dollari, l'ultima fase del ciclo dell'harding l'ha chiusa a 15.000, va bene, eravamo arrivati a 69, chi di voi, oggettivamente, non segue il trend, a coprare a 69 si è devastato il portafoglio, però quello non è un problema, forse, dell'asset giusto, cioè quello forse è un problema della carenza di informazione, e nonostante vi faccio la testa così, io e il mio Batman vi facciamo la testa così, sul fatto che dovete formarvi nell'ambito investing, e nell'ambito trading, poi non lo fate, vabbè, gli estremiani si hanno così un pochettino, siamo un po' fly liberi di freedom, e però poi alla fine i conti tornano, quindi se uno ha una formazione e non segue il trend, si devasta il portafoglio, perché se hai comprato CRO, se hai comprato l'una, e l'ha tenuta nonostante il crash, perché la compravi, ok, ma poi se cambia il trend la devi vendere, perché è pericolosa, dobbiamo sapere che c'è dietro, però non si dimenticano queste cose, però nonostante tutte queste cose qui, Bitcoin è rimasto, ed è secondo me la cosa principale, e resta lì. La SEC dice che le altre cripto sono security, Binance non può più operare, perché l'hanno preso nell'occhio del ciclone, dopo la sua sbruffonaggine eccessiva, non eccessiva, giusta, sbagliata, il paladino della giustizia, il distruttore delle cripto, ognuno ha la sua opinione, perché queste poi sono questioni personali ragazzi, no? Non c'è un dato oggettivo, è dal punto di vista in cui si guarda questa situazione, così è un cilindro, così è un cerchio, insomma, al contrario l'ho fatto, vabbè, e quindi è fatto in questo modo, però sostanzialmente, Bitcoin è qui, per restare, e c'è, e ci sta, la SEC dice, Bitcoin è una commodity, quindi non rientra in queste cose, vabbè. Poi c'è un'altra questione che i mercati stanno affrontando ragazzi, e hanno affrontato nel 2020-22, intanto, i fallimenti, e l'abbiamo detto, la struttura macroeconomica, la prima volta nella storia, abbiamo visto anche i mercati classici farci dalla grande, molto più delle news, molto più degli spauracchi, di queste pseudo situazioni di crisi epocali, che effettivamente ci mancherebbe ragazzi, possono capitare, però è anche giusto dire, che le banche centrali e le istituzioni finanziarie, non sono quelle del 1970, sono molto più brave a gestire questo tipo di situazioni, poi ovvio, tirano anche molto la corda, e questo, i rischi li aumenta, però, in sostanza, al momento sta funzionando, e poi c'è la questione legata, a tutto quello che è successo invece, nell'ambito sottostante, quindi no, il lato B del settore cripto nel 2022, che Bitcoin ha affrontato, perché è qui per restare, i fallimenti le abbiamo detti, poi ci sono le sbruffonaggini, degli personaggi istituzionali delle cripto, da Michael Taylor, che dorme con il Bitcoin, se lo mette sotto il cuscino, e fa, io dormo sopra il Bitcoin, da quell'altro che li odia, invece a morte, non ricordo, va il dove, da quello che spara cifra, arriviamo a 7 milioni di dollari, nell'arco di 14 giorni, da quello che sono i fanatismi, invece, ah esiste solo Bitcoin, il mondo, il resto è cancellato, non c'è, i classici paradismi, diciamo, delle rivoluzioni tecnologiche, ci sono dappertutto, poi abbiamo i personaggi istituzionali, come Binance, che crea una bank run, in un mercato, invece di andare a denunciare FTX, se pensava magari, che ci fossero queste problematiche, denuncialo alle autorità, non creare una bank run, su Twitter, Elon Musk, che decide di utilizzare meme coin, così randomicamente, combattendo per la freedom, libertà totale, quindi cose che non hanno valore, gli fa assumere valore, quella sua importanza, altri personaggi vari, che si vanno a innescare, capite bene, questo mondo è diventato variopinto, è diventato, anche un insieme di fallimenti, oggettivi di questi personaggi, perché istituzioni gigantesche, anche si zia, sbagliato tutto in questa fase, si è visto, perché al di là del fatto, se fosse vero o meno, ha creato un disastro, nel mercato delle cripto, adesso ne subisce conseguenze, amarissime, giuste, sbagliate, vi ripeto, sono opinioni, ma le sta subendo, e poi, gli scam, pieno di scammer, da dovunque, vi girate, scam ovunque, che promettono cose vecchie, come gli esseri umani, ma che funzionano, non si sa perché, vi va in bias cognitivi, ancora ad oggi, e ci sono gli scammer, ci sono quelli che sono finti, di scammer, ci sono quelli che, fanno i progetti, poi non funzionano, quindi, sono scammer, no, non lo sono, perché hanno fatto il progetto, quindi, ma il progetto non aveva nessuna valenza, e quindi è uno scammer, no, non è uno scammer, sei tu che non sai investire, perché non ti sei letto, che quel progetto, non aveva nessuna valenza, non sai capire il valore delle cose, insomma, tutto questo, maradam, tutto in un anno, ragazzi, ma Bitcoin, è qui per restare, ed è questo forse il vero punto fondamentale, ora, che sarebbe stata una guerra, che sarebbe stata un'impresa, forse, no, impattare sul mondo reale, sul mondo vero, quello dei numeri, quello che viviamo ogni giorno, quando ci compriamo un telefono, quando facciamo qualsiasi cosa, insomma, il luogo di Pasco con dentro il Batman, e insomma, noi pensavamo forse che ci avrebbero aperto le porte, per dire, sì, entrate, fate un po' quello che vi pare, distruggete il sistema finanziario, adesso tutti tradiamo questi, questi, questi valute digitali, Bitcoin, eh, no, ragazzi, non ce lo davano il permesso, perché quando si nasce, bisogna lottare già dall'inizio, no, e in questo caso il permesso non l'hanno dato, però non è neanche, se voi ci pensate bene, un disastro, cioè stanno cercando un po' di regolamentare il settore, laddove effettivamente ci sono degli abusi, ci sono delle cose che possono diventare abusi, alcuni li usano, alcuni no, però, insomma, che le criptoprodute nascessero così, creando quei pump and dump, scammando migliaia di persone, milioni a volte, eh, di, di, di persone che non avevano mai ricoltura finanziaria, con delle pagine di copie, eccetera, insomma, è ovvio che le regolamentavano queste cose, ragazzi, però Bitcoin non l'hanno toccato, perché Bitcoin, è da questo punto di vista, un'alternativa, eh, che ha un impatto differente, quindi Bitcoin è qui per restare, la regolamentazione è arrivata, gli Stati Uniti stanno per presentare una regolamentazione, sulle stablecoin, che per la prima volta sarà una vera legge, come quella europea del Mika, una vera legge, negli Stati Uniti, che regolamenterà, chi produce, chi, insomma, chi crea le stablecoin, e sembrerebbe che sia la Federal Reserve, l'organo di, eh, watching, non quello, il cane da guardia, l'organo che deve andare a controllare queste cose, eh, pensate un po' questa roba qui, giusto o sbagliato, ma è giusto forse, no, perché se magari abbiamo un'istituzione federale, che va a guardare i conti, eh, di Tether, di, eh, Circle, eccetera, probabilmente magari siamo più affidabili, quindi siccome le stablecoin non è che devono crescere, ragazzi, non è che sono un'istituzione di libertà, sono un modo in cui si crea liquidità all'interno del mercato delle cripto, noi le utilizziamo costantemente, però è ovvio che se sono regolamentate, se sono controllate, ci fidiamo di più, no, non abbiamo la paura di dire, ah, che ho comprato, poi ci sono tutti gli esperimenti che si possono fare sulle stablecoin algoritmiche, eccetera, quello devono essere fatti perché sono futuro, ragazzi, e il futuro va creato appunto lottando che si fa in questo modo, ma Bitcoin è qui per restare, perché secondo me in ultima analisi la cosa veramente più bella di Bitcoin è che chi lo ha provato non torna indietro, perché Bitcoin è un senso di libertà che non si può spiegare, perché, eh, lo so, sembra, non hai detti ai lavori, magari chi non conosce neanche i meandri della macroeconomia, non sa quando si sposta la liquidità, quello che succede, il concetto di transare un valore da una parte, un punto A, un punto B, senza che ci sia nessuno dietro, tutti quei meccanismi che esistono nei vari modelli che transano la liquidità, eh, non esistono su Bitcoin, quando lo provate, provate un senso di libertà, è come il baratto, è come quando siete con un amico al bar, e vi offrite un cornetto, un caffè, una, uno sprizza, è la stessa cosa, ragazzi, perché Bitcoin dà questo senso di libertà, chi lo prova non torna indietro, ma si appassiona, chi lo prova dice, ma cos'è questa roba? E' la prima volta che si sente forse fuori da una prigione, forse è una prigione immaginaria, che perché poi alla fine siamo pieni di costrutti mentali, ma sostanzialmente non è che siamo, cioè noi siamo nell'Occidente, iperliberi, oggettivamente insomma siamo fortunati, bisogna dire la verità, da tanti punti di vista, però Bitcoin aumenta questo credo di libertà, cioè ci rende più consapevoli di quello che siamo, di quello che abbiamo, è difficile che arrivi a diventare mainstream, come le monete fiat, è difficile, perché ovviamente è complesso ancora da utilizzare e tutto il resto, ma magari diversi stratificazioni di questo strumento, lo potranno rendere effettivamente, quello che insomma vuole diventare, che vuole essere, ma sono più gli utilizzatori che hanno dato un valore a Bitcoin, ragazzi, non ve lo dimenticate, non è solo il protocollo, non è solo quello che c'è dietro, ma sono le persone, e Bitcoin è qui per restare, perché le persone adorano Bitcoin, quando lo hanno utilizzato, non tornano indietro, si innamorano, si appassionano, questo è il vero valore di Bitcoin, sul resto del mercato cripto, non sarei così convinto, ragazzi, perché alcune cose danno molta libertà all'Ethereum stesso, per esempio i layer in generale, le chain, altri progetti sono solo puramente speculativi, cose inventate dall'oggi al domani, che non creano neanche, no, quell'appartenenza a livello emotivo, quindi Bitcoin è qui per restare, e secondo me, ce la farà a passare questa fase, ma questa fase è arrivata, sembrava l'altro giorno che ne parlavamo, ragazzi, Academy aperta, fino a probabilmente l'ore di mattina, quindi non fatevi scappare questa occasione, noi ci rivediamo nel prossimo video, ciao!